ciao ragazzi ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale sono Michele come sempre prima di procedere al montaggio del contenuto dell'uscita numero 47 desidero ringraziare tutti i miei iscritti grazie grazie davvero a voi tutti che mi seguite ragazzi dedicandomi del vostro tempo grazie e per quelli che ancora non sono iscritti che aspettate che aspettate a iscrivervi ragazzi ho bisogno di tutti voi per crescere in questo mio nuovo progetto mi raccomando ragazzi grazie a tutti procediamo adesso all'apertura del contenuto uscita numero 47 ma prima come ormai sapete diamo un'occhiata alle bellissime foto presenti all'interno di questo nuovo fascicolo procediamo numero 47 copertina stupenda come tutte quelle che ho visto fino adesso e sicuramente anche quelle che seguiranno bellissima numero 47 andremo a fare la seconda parte dello stivale seconda parte dello stivale che ci permetterà anche di concluderla di concluderlo scusate allora prima pagina diamo una rapida vista soprattutto ragazzi per quelli che non hanno deciso o non hanno potuto perché non arrivava nel loro paese iron man da costruire e quindi lo faccio per loro perché noi ovviamente le riviste le abbiamo e le conosciamo tutti prima pagina dei servizi andiamo a vedere le foto di questa pagina pagina numero 1 bellissimi guardate eh sono belle sono belle sono belle io queste non le ho ancora lette le leggerò sicuramente perché questa collezione diciamo di iron man questa collezione di iron man è completa proprio anche perché oltre chiaramente a quello che ci interessa di più cioè la nostra armatura ma non di meno non da meno anzi scusate non da meno abbiamo un valore aggiunto che è dettato proprio dai contenuti che ci sono all'interno di queste riviste questi fascicoli scusate bellissime le foto sono bellissime poi leggeremo anche quello che è scritto guardate un po andiamo avanti ragazzi qui ho poco da dire vi faccio vedere le immagini e infine la copertina di coda dove qui ci dicono quale sarà la prossima uscita che è una parte la prima parte dell'articolazione del ginocchio destro ok va bene ragazzi a noi 47 andiamo a procedere al montaggio prima cosa apriamo il nostro bel pacco vi do solo qualche indicazione ragazzi qualche indicazione che io ritengo almeno per me sia valida poi ognuno di voi ovviamente decida per sé stesso è chiaro all'interno abbiamo la punta dello stivale aspettate che sposto così con lo sfondo bianco come sempre dico dovreste riuscire a apprezzarlo di più bellissimo metallo so ragazzi che noi che facciamo la collezione sappiamo che è di metallo ma come ho detto prima non tutti quelli che guardano i miei video hanno sotto mano hanno avuto la possibilità di ricevere la collezione che la di agostini a noi ha permesso di ricevere ci sono paesi in cui non arriva ovviamente come a noi non arrivano altre collezioni come ben sapete tutti quindi metallo plastica questa è la parte superiore che poi andremo a vedere dopo con la calamita sotto la parte finale della punta del fondo dello stivale tre serie di viti e m m ovviamente come sapete ormai va vuol dire che vanno avitate nel metallo e m qui abbiamo le c m e qui le e p ok ragazzi e poi infine abbiamo abbiamo le coperture che adesso chiaramente vi farò vedere tutto nel dettaglio ragazzi state tranquilli sul fascicolo abbiamo quindi le coperture argentate di plastica con la calamita e le due rondelle che serviranno come frizione quindi come freno per il movimento questo qui per il movimento della punta dello stivale destro di iron man perfetto una sola cosa ragazzi guardate io l'ho già detto nei miei video per chi mi segue non è una novità questa notizia ma molti non avranno visto i miei video cosa aspettate ragazzi andate a vedere allora guardate qua fate attenzione quando prenderete questi pezzi guardate cosa succede vedete la calamita si è staccata ok la calamita si è staccata qua questa qui l'ho provata ed è ben salda questa appena sono andato come consiglio sempre anche a voi sono andato con la punta dell'unghia ovviamente non a fare una leva sproporzionata è ovvio ma appena ho fatto così tac che lei si è staccata questo può succedervi ragazzi e può succedervi quindi controllatele perché poi non perderete le calamite ma potrebbe capitarvi di perdere questo pezzo e sarebbe un peccato è vero che potete riordinarlo ci mancherebbe però sono altri almeno in italia quasi 11 euro 10 euro e 99 ok via e ovviamente io poi non vi farò vedere adesso ma se avrete necessità di vedere nel dettaglio io poi per incollarle uso un bicomponente epossidico ci sono anche dei consigli da dare per come usare questo e ragazzi se ne avete bisogno chiedetemelo se no potete altrimenti attaccarlo eccola qua che ve la faccio vedere eccola lì vedete calamita potete attaccarlo con qualsiasi altro collante anche con un po di bostik però tenete presente che il bostik quando lo mettete dovete con una punta ad esempio di aspettate ragazzi perché parlo e devo ragionare anche ovviamente prendete uno stuzzicadenti una punta di uno stuzzicadenti mettete un po di bostik qua pochissimo e un po di bostik lo mettete nella facciata chiaramente della calamita dove vedrete la colla vecchia aspettate almeno un minuto due e poi lo attaccate perché il bostik deve evaporare questo no comunque passiamo a noi mettiamo via queste via facciamo un po creiamo un po d'ordine e andiamo subito alla prima fase di montaggio prendiamo il nostro la nostra parte di stivale eccola qui ragazzi una cosa che non vi ho detto perché io molte cose le do per scontato ma ovviamente ve le dico per voi ok le dico per voi prima di aver messo queste due viti controllate sempre all'interno di nuovo le quattro viti che tengono quelle che praticamente quelle che hanno la placchetta di plastica che tengono questo pezzo qui ok stringetele ragazzi stringetele se avete fatto la mia modifica se non avete fatto la mia modifica stringetele limitatamente perché rischiate di spaccare la sede del foro della plastica quindi fate attenzione perché se dopo vi trovate dopo aver montato tutto questo molle dovete riaprire tutto tutto qua passiamo al montaggio ragazzi allora qua ci dice di prendere chiaramente il pezzo dello stivale montato nel numero 46 la punta dello stivale eccola qui giriamo così che forse riesco meglio vediamo sì e poi andiamo a prendere le due rondelle da trito quelle in plastica rossa queste attenzione anche a queste qua ragazzi non è uguale metterle così o metterle così non è uguale ok sicuramente lo sapete ma io ve lo faccio notare lo stesso la rondella è un po' smussata da una parte ok mentre dall'altra è completamente piatta non so se si vede vediamo un po' la foto aspettate che ecco vedete da questa parte completamente piatta da quest'altra non è completamente piatta vedete che è un po' stondata allora come va messo attenzione ragazzi non andate nel panico perché è molto semplice guardate qui prendiamo il nostro bello stivale la parte dello stivale del numero 46 e andiamo a mettere la parte piatta questa non quella che vi ho detto prima che è un po' stondata la parte piatta la andiamo a mettere qua guardate la vedete che è stondata sopra la parte piatta va messa lì fate tenete con il dito in questo caso il dito indice il pezzettino e fate la stessa cosa ovviamente dall'altra parte la parte piatta contro il metallo la parte più stondata sopra mi raccomando ragazzi perché non è la stessa cosa non è la stessa cosa lo montate lo stesso ma non è la stessa cosa dopo aver tenuto questo ok andate a inserire questo semplicemente non da sopra di qua ma di qua così tenete e guardate lo inserite ok perfetto e andate a centrare chiaramente il foro finché non vedete che ovviamente potete mettere la vite la vite da mettere in questo caso e andiamo a prenderle la cm eccola qua cm ragazzi qui non dovete mettere assolutamente grasso non mettete il grasso perché perché queste viti vi accorgerete che diventeranno molli già da sole ogni tanto ogni tanto non ci dobbiamo giocare ovviamente però poi si assestano e quindi dovete distringerle non mettete viti e chiedo scusa ragazzi non mettete adesso mi si è spostato tutto se mi metto a ridere è finita non mettete il grasso ragazzi per questo motivo perché deve esserci un freno all'interno dettato dalle appunto rondelline se mettete il grasso guai lo rendete ancora più molle fate la stessa cosa di qua andiamo sempre a prendere la nostra bella vite cm e completiamo da questa parte guardate perché vedete non è centrato così è centrato controllate sempre e voilà ragazzi quanto è difficoltoso parlare sapere cosa devo dirvi guardare nella telecamera del telefonino e non uscire dall'inquadratura non vedo l'ora di avere un'attrezzatura che mi prenderà l'immagine dall'alto e quindi non avrò più questo problema guardate durissimo perfetto poi andiamo a prendere il nostro pezzettino che in questo caso il 47b o 47 dove vediamo qual è l'altro il 47b o il 47b si chiama tutte e due sono tutte e due 47b perché perché ovviamente metterlo di qua o metterlo di qua non cambia nulla non potete sbagliarvi a due perni scusatemi a due perni all'interno vedete qui manca la calamita ragazzi ve l'ho fatto vedere prima adesso io lo inserisco così anzi facciamo una cosa fatta bene prendiamo quello con la calamita ok andiamo a levare quella che poi dovrò incollare successivamente eccola qua perfetto e andate a inserirla non potete sbagliarvi perché all'interno avete dei fori aspettate eccoli qua uno e due dove andranno inserirsi ad inserirsi questi due perni eccoli ok perfetto quindi andiamo a metterli così semplicemente avviciniamo ecco qua ragazzi aspettate facciamolo girare con le dita lui si centra da solo dovrebbe centrarsi da solo ecco qua vedete perfetto l'altro ragazzi non lo metto perché devo prima incollare la calamita avete visto ok fatto questo controllate sempre qui perfetto la luce perfetta fatto questo andiamo a mettere la parte finale dello stivale sotto quindi il pezzo 47 e qui invece ragazzi ho passato già ho filettato già le viti con il grasso quindi prendete le viti em come si apre il sacchettino ragazzi come si apre eccolo qua aperto perfetto allora andiamo a prendere due viti due viti em ok grasso ragazzi io non lo faccio più perché l'ho già fatto e ho preparato già tutto prima passate le viti passate le viti una e due posizioniamo sopra la punta inferiore dello stivale e andiamo a mettere le due viti em guardate come si avvita facilmente avendole prima filettate con il grasso una e due perfetto scusate guardate quanto è bello questo pezzo di iron man tutti sono belli ragazzi ma questo è veramente ma poi è pesantissimo pesantissimo che è bello che piacere che ho a tenere tra le mani un pezzo del genere è veramente bello questo funziona perfettamente bene vedete è rigido non si muove lo muovo se voglio io considerate ragazzi che su questa caviglia andranno tre chili e sei tre virgola sei chilogrammi un e otto di qua e un e otto nell'altra non sono pochi se questa è troppo lenta non lo so come vi sta in piedi il vostro iron man ragazzi andate a dare un'occhiata ai video che ho fatto della modifica interna è importante quella modifica ragazzi è importante fatto questo torniamo alla nostra rivista e vediamo cosa ci dice di fare ci dice di mettere la batteria che abbiamo già messo prima e e non la sto rovinando la il fascicolo ragazzi tranquilli l'ho soltanto piegato così io sono molto pignolo vedete perché se io vedo delle cose così nei video dico caspita io non lo fare mai io sto soltanto piegando così senza schiacciare così non si rovina il fascicolo qui allora ci dice di prendere il coperchietto e con la vite e p coperchietto ah già eh ragazzi ah già il coperchietto e mi dovete scusare ma devo andarlo a prendere immediatamente nell'altro fascicolo un attimo ragazzi vedete questo vi fa capire che io non mi preparo purtroppo nulla eccomi ragazzi 45 45 eccolo qua ci dice di prendere il coperchietto e il coperchietto dice di mettere la copertura ovviamente che era nel numero 45 di plastica per il vano batteria e di mettere una vite e p e p questa a questo punto io prima di avvitare il coperchietto ragazzi cosa ho fatto ormai lo sapete sono andato senza grasso non mettete olio non mettete grasso perché è plastica sono andato a ripassarmi questa vite l'ho filettata l'ho svitata e adesso posso andare tranquillamente a mettere questo ecco qua perfetto guardate come gira perfettamente la vite che spettacolo bellissimo ragazzi bellissimo scusate per prima ragazzi che vi ho fatto attendere qualche secondo scusatemi pezzo di plastica sopra con calamita meno male che di plastica ragazzi non vi lamentate che non è di ferro perché rovinerebbe guardate guardate dove tocca qui guardate dove tocca qui si rovinerebbe lo stivale essendo di plastica invece ecco perché lo hanno fatto così questo non accadrà mai andiamo a vedere il fascicolo e come potete vedere abbiamo terminato ecco qua quindi diciamo che ci possiamo salutare il numero 47 è terminato lo stivale è concluso meno male bellissimo ragazzi grazie a tutti grazie sempre perché mi seguite grazie del vostro supporto ragazzi grazie veramente di cuore se c'è qualcosa che volete chiedermi scrivetemi pure nei commenti e io compatibilmente con il tempo che ho a disposizione vi risponderò ok ragazzi iscrivetevi iscrivetevi ovviamente se vi piace quello che dico nei miei video e come lo dico e se siete contenti e vi iscrivete ragazzi fate contento anche me perché mi date veramente una grossissima mano ciao a tutti ragazzi alla prossima